buon pomeriggio ragazze come state spero bene allora nuovo video chiacchiericcio dunque si rincomincio con i video chiacchiericci perché mi piacciono tantissimo adoro farli e sentirli dalle altre ragazze youtuber e nulla allora come state spero bene nulla oggi in tutta la mattinata ho cercato di fare tutte le mie cose sistemare cose varie adesso mi sono voluto un dedicare a voi e nulla quindi spero che questo video vi possa piacere e nel frattempo mi sono saluta qui in questo bel letto dove voglio chiacchierare con voi e dirvi un po di tutto di più allora comincio col dirvi che appena posso per qualche altro video di make up perché ancora non ne ho fatto neanche uno non so perché e poi ne farò anche video di polizia queste cose qui perché non ho ancora capito perché non riesco a farne forse sarà il tempo non no non c'entra che non ho voglia perché non è vero non è che non ho voglia non non riesco mai avere il tempo un po perché mi dimentico e della verità un po perché mi faccio prendere della fretta di voler pulire la casa in fretta infatti sì della casa perché un po o imprevisti quindi insomma tante cose sono in mezzo che non sto qua a riportarvi perché non mi sembra il caso e nulla come sto io sto bene ragazzi si tira avanti ma se mi vedete in queste cuffie è perché così spero che mi sentiate bene ma tanto vabbè poi vado a rimediare col con i movie perché sto editando da i movie con l'iphone mentre appena registro un altro video registro con questo qua xiaomi e niente per te vi tutto ciò che volevo solo sapere se vi interessavano questi video che ricci nulla appunto oggi non ho fatto granché è solo un video che riccio che non credo che mi porti a nulla ma tanto per farvi un po di compagnia ho fatto una live ma alla fine non ho voluto fare la live e vabbè quindi niente e ragazze aspettate una seconda che qui la inquadratura è un po storta ok perfetto spero che non sia più storta ma vabbè io non è che sono molto esperta di inquadrature però fatemi sapere nei commenti se l'inquadratura perfetta o meno e nulla cosa ho detto qui in tre minuti di video che allora in questo periodo ho avuto mali denti pazzesco ma vabbè dettagli quando mai io non sto bene ma vabbè ma il resto tutto ok tutto a posto a parte la pausa periodica che ho avuto da youtube e da tutti i social prima o poi riprenderò a fare tanti altri video a stare su instagram su facebook e tik tok ci provo ma non lo so vediamo perché boh non ne ho idea sinceramente grazie cioè io ho tanti tanti cose da da proporvi però poi non ho idea di quali voglio proporvi sono tante le idee che ho da raccimolare prendere e buttare prima di c'è non buttare che voglio dire prima prenderle e poi metterle editarle eccetera e pubblicare su youtube su instagram quindi vediamo un po cosa posso fare perché non ne ho idea ancora nulla tra l'altro sono adesso sono le 14 9 minuti ma vabbè dettagli e nulla quindi ragazze non so ancora io neanche cosa riuscirò a combinare oggi per questi video ma speriamo bene perché sinceramente devo trovare il modo in cui voglio tirare fuori tirare fuori queste idee cioè le idee vi ripeto ce l'ho ribadisco che ce l'ho però non so come proporvele perché voglio trovare uno status ovvero non uno status che ti dico vabbè un modo una posizione in cui mi viene meglio a me sì vabbè le angolazioni per fare video ce l'ho solo che non ho ancora capito come posizionare la telecamera e via discorrente quindi sapete bene che la mia anzi se non la avete ancora capito ve lo dico io sono in una come dire sono in una situazione che non so neanche io come mettermi vabbè prima o poi si farà tutto quanto non ci bisogna di avere tutta sta fretta non sono io che ho fretta perché mi piace fare video ma non so mai come posizionare il telefono il cavalletto e tutto lì e boh se no argomenti ne avrei di tirare fuori per il mio canale youtube inerente al make up e alle pulizie ma vabbè niente dettagli a proposito vorrei fare video delle pulizie l'ho già detto non sto qua a ripeterlo perché l'ho già detto i miei anni volte e voglio anche fare il video dei di come pulisco la casa cioè non come la pulisco ma sia anche quello i dettagli che utilizzo con i propri specifici per la casa esattamente per la casa e nulla che altro dirvi basta ragazzi io penso di avervi detto tutto ma un altro particolare si come cura i miei capelli perché mi pare che non ho ancora detto si ho detto come cura i miei capelli mi pare di no non ho fatto un video approfondito di come cura i miei capelli già potrei farlo forse sarebbe interessante non ne ho idea non ci posso provare e niente ragazze per adesso è tutto io mi congedo da questo video che ho fatto nel senso che vi lascio a un altro video che sarà dopo ciao ragazze e ci vediamo a dopo se riesco se no si vedrà domani perché non si sa mai ciao non si sa mai nel senso che nel senso che non lo so neanche io se riesco a fare a fare tutti i video che vorrei fare ma ci provo non mi ho intento ma ci proverò ciao